Il mediatore è una figura importante perché consente a parti che vivono una situazione conflittuale di riuscire a trovare insieme una soluzione soddisfacente per i loro bisogni e consente quindi di superare la controversia e evitare di andare in giudizio e coltivare un rapporto in maggior armonia. Cosa ci portiamo a casa da questa competizione che abbiamo avuto la fortuna di vincere, l'onore di vincere, sicuramente ricordo che come insegna questo settore prima di tutto vengono le persone e quindi questo indubbiamente e poi che i limiti e le paure che spesso sono un'illusione, delle volte sono un grande ostacolo nella carriera e nella vita di tutti noi ogni giorno e quindi anche solo la difficoltà nel decidere di mettersi in gioco, questa volta noi pensiamo sempre che oltre al merito ci sia la fortuna, si dice che la fortuna aiuta gli audaci, questa volta siamo stati audaci nell'iscriverci senza troppe preparazioni, senza grosse aspettative e siamo stati premiati alla fine con il primo premio. cosa ho tratto? Innanzitutto un compagno di squadra perché prima di iniziare tutte queste cose non ci conoscevamo, frequentando lo stesso anno di corso, quindi grande vantaggio e poi sicuramente mezzi utili per comprendere al meglio, comunicare al meglio con gli altri che a prescindere da cosa farò, cosa che appunto ancora non so, saranno sicuramente utili. Perché portare la mediazione all'interno delle aule universitarie? Perché è qui dove si crea cultura, che è bene cambiare la cultura dell'avversità ed è bene creare pace e noi ci vantiamo di creare dei piccoli artigiani di pace che cambiano il loro modo di vivere i conflitti e lo fanno qui, proprio nelle aule di questa bellissima università di Verona.